Chiede ai due pregiudicati che lo hanno occupato abusivamente di liberare l'immobile incontrata a Palmarini al rione Sant'Elia di Brindisi che ha acquistato ad un'asta fallimentare, ma di tutta risposta riceve un netto rifiuto, minacce ed aggressioni fisiche culminate in un pestaggio avvenuto lo scorso 16 agosto. I due aggressori denunciati dal nuovo proprietario della casa sono stati tratti in arresto nella mattinata di oggi, giovedì 20 ottobre 2016, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, Stefania De Angelis, su richiesta del Pubblico Ministero Simona Rizzo. Ad essere arrestati con l'accusa di estorsione, minacce e lesioni i pregiudicati brindisini Paolo Rillo, 25 anni, di Brindisi e Antonio Guadaluppi, 46 anni, anche lui di Brindisi. Le attività di indagine sono state portate avanti dagli operatori della squadra mobile di Brindisi in seguito alla denuncia del nuovo proprietario dell'immobile. Le investigazioni, abbinate a riscontro dei documenti in possesso dell'uomo aggredito, hanno fornito un quadro effettivo della vicenda nella quale i due pregiudicati, intimidendo e facendo uso della forza fisica sulla vittima, l'avevano di fatto costretto a rinunciare ad un suo bene per continuare ad occupare abusivamente l'alloggio. I due arrestati, legati dai vincoli di parentela indiretta, avevano affrontato il proprietario dopo che tramite il suo legale aveva loro intimato i termini per liberare l'immobile. Avevano aggredito la giudicataria all'asta fallimentare in maniera violenta e minacciandolo di morte. Le successive indagini hanno permesso di identificare i due aggressori e l'autorità giudiziaria ha quindi emesso nei loro confronti il provvedimento restrittivo di custodia cautelare in carcere.